Per i più giovani è facile incappare nei giri sbagliati, ma una risposta alla dipendenza da droga, alcol e ludopatie è il progetto triennale Drop-in, presentato alle officine culturali di Bitonto. Un centro di aggregazione di bassa soglia dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni con lo scopo di ridurre i fattori di rischio e favorire socializzazione e formazione contro le devianze. Lo sportello comunale in via Amedeo 44 a Bitonto sarà gestito dalla cooperativa CAPS, centro di aiuto psicosociale, che da oltre vent'anni si occupa di disagio e emarginazione. Il progetto è stato presentato dal sindaco Michele Baticchio, da Franco Scauro, assessore a welfare del comune di Bitonto e dai responsabili del centro di ascolto psicosociale. Gli interventi di sensibilizzazione e prevenzione si snodderanno su tre azioni fondamentali. La creazione di un centro di aggregazione giovanile, lo svolgimento di attività psicoeducative presso gli istituti superiori di Bitonto e un progetto cinematografico che convolgerà Pippo Mezzapesa e Bianca Guaccero e che verrà portato in scena nella rete dei teatri civici dell'Associazione contro le mafie Avviso Pubblico.